Ciao a tutti ragazzi, oggi vi farò vedere la mia faccia, siete pronti? 3, 2, 1 Oggi vi farò vedere trucchi di magia con carte rosse e blu Vi lascio al video Ciao a tutti ragazzi, benvenuti oggi in questo nuovissimo video, sono super pimpante oggi Siamo qui anche con mia sorella e questa è una magia inventata da me Di come teletrasportare da una carta all'altra Allora, adesso fatti vedere un po' meglio Emma perché sennò... Ciao Adesso ti chiedo di dirmi stop in un punto uno Stop Pesca questa carta, falla vedere, mi giro Fatta vedere? Sì Ok Adesso dimmi stop ancora Stop Qui Anzi, non serve perché... Perché questo trucco non sarà come dire, sai Emma un trucco come quelli che devo scoprire la carta Ma sarà di teletrasporto Questo è il bello Ok, adesso io vado a... no scusa non servio Ok Adesso metti una mano così Così? Sì Mettici sopra l'altra mano Ed ecco lì Adesso è lì Guardate ragazzi che qua c'è un'altra carta, la prima Adesso schiocco le dita Scambio Un po' diventa questa E lì Bello Noi, sempre like al tutorial Arriviamo alla seconda magia Seconda magia Ragazzi, ultima magia di quest'oggi E poi ci sarà la clip che ho messo all'inizio Tutte carte diverse Nessuna uguale E guardate una cosa Che se io faccio pescare una carta Adesso mia sorella è andata Faccio pescare la carta Vi giuro che non la sto guardando Spero che così si veda bene Spero che l'avete vista bene Poi lo spettatore mi dice stop in un punto qualunque Io normalmente la vado ad inserire Adesso io schiocco le dita E passando solo le carte Capisco subito qual è la tua A sensazione Questo qui è meglio da tavolo Ve lo dico subito Ma è sempre di impatto Tipo qua si fa più lentamente Tipo sì Qual'era la vostra? Vediamo Questa Speriamo che era questa poi Vabbè ragazzi Adesso vi lascio Alla clip Che ho messo all'inizio Che metterò anche adesso Ok dai Posso farvi vedere Veramente la mia faccia E lo faccio solo per voi Io sono quelli Sono andata con la mascherina Agli occhiali E' una storia tragica Perché anche mi sentirete bene Siccome Anche se ho la mascherina Perché E' proprio della mascherina Che io parlo Non c'ho la bocca sotto la mascherina E mi sono messo solo questo Perché voglio farmi vedere Solo a 100.000 iscritti E non a 100 iscritti No Però Vi volevo dire L'ho fatto per voi L'ho fatto per voi Iscrivetevi E lasciate like Arrivederci E Non denunciatemi Sembra che il cavo Non va a niente Non va a niente Vabbè